La simpatia, l'igiene prima di tutto, la polizia è perché il push-up è la meglio di tutti. Allora, primo sicuramente l'ambiente familiare di grande amicizia, la polizia degli ambienti che è fondamentale e l'efficienza di tutti i dipendenti e dei proprietari che sono perfettamente competenti. Per la simpatia, professionalità e sicurezza. Io faccio le lezioni, mi trovo bene con gli insegnanti ed è anche vicino a casa, quindi grazie e mi ha l'appreciato. L'amicizia con i proprietari che sono delle persone splendide e professionali, la bravura, la bellezza delle persone che incontro lì, l'assoluta efficienza dei macchinari e di quant'altro, l'ambiente in sé e non ho più motivi, ma è questo. Mi trovo bene perché trovo persone competenti, capaci, preparate e che mi hanno anche cambiata fisicamente. Perché sono professionali, simpatici, familiari. Ho scelto la push-up non solo perché ce l'ho vicino a casa, ma anche perché qui la familiarità è di casa, ci si allena in tranquillità, c'è Riccardo che è un master professor e poi si sta bene, che vi devo dire. Bravi insegnanti, docce e comode, gente simpatica. Grazie, grazie, grazie.